Signori è giunto quel giorno, maratona senza limiti di maggio, senza limiti di tempo, in live adesso su Twitch, primo link in descrizione, altrimenti ti amate trattino basso official. Ogni sub aumenta il counter di 5 minuti, ogni 100 bits si aumenta di un minuto, potenzialmente all'infinito, quanti più giorni si va avanti. Non mancate perché tentiamo il record di spettatori oggi, quindi se volete far parte del record di spettatori passate subito nel primo link in descrizione. Oltretutto se lo superiamo nelle prime due ore, 520-530 aspect indicativamente, aggiungerò 10 Yentai alla lista, perché sì, durante questa maratona ogni 12 abbonamenti, ogni 12 sub, prime, tier 1, eccetera eccetera, comprerò un manga, Yentai, insomma dipende da Yentai, che sia edito in Italia. Dunque ragazzi non potete assolutamente mancare per questa maratona gigantesca, l'altra volta siamo andati avanti per due giorni di fila, proveremo a battere questo record, vediamo se ci riusciamo. E soprattutto proviamo a battere il record di spettatori, a cui tengo veramente tantissimo, quindi se avete l'opportunità passate proprio in questo istante in live per segnare la storia del canale di Twitch e fare questo beato record di spettatori e farmi comprare anche qualche manga in Yentai in più. Vi ripeto, la maratona non ha limiti di tempo, quindi potremmo andare avanti all'infinito potenzialmente, abbiamo tantissime cose da fare, la programmazione ve la sto lasciando qui adesso, magari, oppure ve la faccio vedere in live appena arrivate, altrimenti la trovate su Instagram per intenderci. Dunque, primo link in descrizione per passare adesso, subito, in questo istante in live. Questo mese abbiamo deciso di provare a pushare quantomeno il record di spettatori, era un po' che non lo superavamo, ci siamo detti vabbè proviamoci, con una maratona di questo tipo potremmo riuscirci, soprattutto con una programmazione del genere. Quindi ci siamo detti, perché no? Aipiamo un po' il tutto, la sto ipando da un po' di giorni, ve l'ho detto in più video, ve l'ho spammata in live su Instagram ovunque, adesso vi faccio anche questo video. Proviamo a battere questo record di spettatori, signori, vi sto aspettando proprio in questo istante. Iniziamo tra l'altro facendomi comprare cose completamente a caso a tema anime e l'ultima volta ho comprato dei pantaloncini di Kaguya, lo sapete benissimo, delle action figure particolari. Dunque signori miei, avete anche l'opportunità di farmi comprare cose di questo tipo se passate subito in live, oltre che spaccare il record di spettatori, oltre che se sabate col Prime che è completamente gratis, potete farmi comprare dei manga entai. Cosa volete di più signori miei? Io vi sto aspettando proprio in questo istante, vi ricordo per l'appunto che con Amazon Prime la sab è completamente gratuita, vi basta collegare il vostro account a Twitch di Amazon Prime, farete così Prime Gaming e vi basterà cliccare su abbonati, abbonati senza costi aggiuntivi. Se entrate da telefono, cliccatevi una volta sul player della live e vi uscirà abbonati più in basso. Mi raccomando signori miei, vi sto aspettando in questo istante, non mancate, proviamo a spaccare tutto con questa maratona e se arriviamo domani abbiamo sia il gioco horror in cui mi caccherò in mano, sia piantiamo i pomodori. E sì, avete capito bene, piantiamo i pomodori. Direi che sia il momento perfetto per andare in là. Correte! E sì, avete capito bene, piantiamo i pomodori. E sì, avete capito bene, piantiamo i pomodori.